Anche Giuseppe Fornasari, l'ex presidente di Banca Etruria, indagato assieme ad altri 21 membri del vecchio CDI e dirigenti per bancarotta, a frodo lenta, preferito non usufruire della possibilità, dopo aver ricevuto l'avviso di chiusura indagini, di farsi interrogare dai magistrati del pool guidato dal procuratore di Arezzo Roberto Rossi. Altrettanto avevano scelto di fare altri indagati, tra cui l'ex direttore generale Luca Bronchi. Gli altri interrogatori previsti sulla carta sono quelli di Giorgio Natalino Guerrini, ex vicepresidente, Rossano Soldini, Ugo Borgheresi, Federico Baiocchi e Sergio Bertani, che dovrebbero concludersi entro venerdì della prossima settimana. Successivamente il procuratore Rossi chiederà il rinvia giudizio e l'udienza preliminare potrebbe essere fissata dopo l'estate. Al centro dell'inchiesta, che ha portato all'avviso di chiusura indagine per 22 ex consiglieri e dirigenti, la concessione di finanziamenti che avrebbero causato il dissesto di bilancio della banca e il conseguente crack finanziario.